Lei lo sa che a Belluno si paga meno di tassa rifiuti rispetto a tutto il resto d'Italia? È vero. Si capisce dalla bolletta? Dalla bolletta sì, 60 euro in tutto l'anno insomma io pago. Io e la moglie siamo in due solo. Solo 60 euro dunque per due persone, poco meno della metà di quello che paga una famiglia media a Belluno di tassa sui rifiuti. 150 euro all'anno per quattro componenti in 80 metri quadri di casa. Il Comune Veneto è quello in Italia dove si paga di meno la Tari secondo la recente analisi del Servizio Politiche Territoriali della UIL. Qual è il segreto? Siamo bravi, cerchiamo di fare il nostro dovere e di mettere in pratica quello che ci insegnano. Lei separa sempre tutti i rifiuti? Tutto sì, dal secco all'umido e varie cose, vetro, non vetro. La tariffa bassa si ha anche perché ci sono tante persone che pagano, tutti pagano a Belluno. Il sistema di raccolta è misto, stradale, con le campane differenziate ma anche porta a porta ma su scelta del singolo cittadino. L'altro segreto è stato non utilizzare il sistema di raccolta spinta, il porta a porta cosiddetto, che è sicuramente un sistema che funziona molto bene in termini di differenziata ma naturalmente aumenta i costi a dismisura. Ma negli ultimi tre anni abbiamo abbassato la bolletta per tutti mediamente del 15%. Il sistema di raccolta è in un'inferno per tutti mediamente del 15%. Grazie a tutti.